Vengo a fine seduta per segnalare il fatto molto increscioso, direi scandaloso che si sta verificando a Padova dove la Procura della Repubblica ha deciso di impugnare 33 atti di nascita di 33 bambini padovani che erano stati registrati all'anagrafe come figli delle proprie famiglie. È un gesto che io non riesco a definire per quanto risulti inumano, impietoso, gelido, distaccato e fondamentalmente contrario al senso di civiltà che ispira la nostra carta costituzionale. Il fatto che l'autorità giudiziaria entri nelle case di 33 famiglie per affermare che quelle 33 famiglie non sono famiglie è una cosa che ripugna al buonsenso dei cittadini di un paese civile. Signor Presidente, io le voglio ricordare che i nostri costituenti, quando definirono la famiglia società naturale, lo dissero per spiegare che non può essere il legislatore o un giudice a stabilire cosa sia una famiglia. Una famiglia è ciò che è in natura, quello che si forma sulla base del progetto di vita delle persone e se i costituenti lo decisero è perché nel regime precedente il legislatore decideva per esempio che un uomo cosiddetto ariano non poteva sposare una donna cosiddetta ebrea o viceversa e non volevano più che fosse la legge a stabilire cosa fosse una famiglia ma che la famiglia nascesse dall'amore, dalla volontà, dal progetto di vita delle persone. Qui ci sono 33 bambini a cui viene detto che devono cambiare cognome, a cui viene detto che la donna che chiamano mamma e che potrebbe essere la donna che non li ha partoriti ma forse è la donna che ha dato loro il patrimonio genetico, l'ovulo dal quale sono nati, per questi bambini la mamma non è più nulla. Allora io vi chiedo, al di là degli aspetti legali che dovremmo come legislatori risolvere, se sia tollerabile che questo paese nell'Europa occidentale di questo secolo si possa permettere di violare la vita, il futuro, la stabilità, la sicurezza di 33 bambini e non avere ripugnanza di se stesso nel momento in cui lo fa.